Le ultime due partite vinte agli ultimi minuti non è proprio il massimo per le persone che hanno il cuore debole. Speriamo di farle soffrire un po' di meno la prossima volta. Comunque questa è la dimostrazione, l'effetto che vi ha dato la Champions, il carattere che è tornato, la convinzione, il crederci sempre fino alla fine. Sì, ci ha dato un bel carico di fiducia in noi stessi con la vittoria al novantesimo con una squadra veramente forte come il Tottenham. Oggi siamo andati a prenderla fino all'ultimo e ce l'abbiamo presa e abbiamo portato tre punti che mettono la classifica un po' a posto. Può cominciare adesso veramente un campionato diverso dopo questa partenza un po' difficile? Sì, ovviamente la partenza non è stata l'ottimale e quindi dobbiamo fare punti per forza e oggi c'era bisogno dei tre punti che li abbiamo portati a cassa e dobbiamo provarci a farlo anche martedì. Tu sei entrato bene col Tottenham anche stasera, si vede che anche stai meglio fisicamente, speri anche di guadagnarti un po' più di meno? Bene, piano piano sto entrando nella squadra, il mister mi sta dando fiducia nelle ultime partite e l'importante è che tutti gli giocatori siano pronti quando abbiano questa occasione di giocare e credo che è quello che ho fatto.